Applausi 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 Altri componenti d'eccellenza del piadino che sono l'olivorina violenta, succo di limone e il zucchero semolato. Nel scivori una ricetta molto leggera dolce, delicata. Come nasce questo drink? Beh, nasce grazie un po' al mio vissuto. Sta sempre da bambino fantasticato, fantasticavo, volevo mangiare dei fiurti e quando poi assaggiandone uno sono rimasto sconvolto dal retrogusto estremamente amaroglio. Poi un giorno in violetto belle donne mentre mi ricavo al lavoro una mia carissima amica mi fece assaggiare un bonbon, una violetta candida. e da lì l'idea di trasformare questo bonbon in un drink. Oltre a me e a questa donna c'è un altro protagonista in questa storia che è un bambino che mi ho incontrato sempre mentre andavo a lavorare. Mentre percorrivo il viale per la fila comunale c'era questo bambino che lo andava con la madre perché voleva raccogliere un fiore e lo voleva mangiare. grazie. 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 Grazie.